Lì abbiamo la nostra Tomassina Martini, anche lei fa parte della via degli artisti, hai sposto da noi, che cosa hai portato? Allora lì è la Madonna, la maternità che rappresenta la maternità e c'è un po' da dire insomma sulla Madonna. Invece qui è Capracola, Palazzo Farnese di Caprarola, quindi è stato un quadro commissionato questo che dovrò dare a breve e rappresenta la musica, il teatro, il territorio, quindi il Palazzo Farnese e la natura che comprende tutta Caprarola. Manca il lago, però non è stato richiesto, però anche il lago di Vico è uno di Caprarola, insomma, che sta. E questo è stato fatto olio acrilico, invece la Madonna completamente a olio. Bellissimo.